Macchine che pensano come l'uomo, automobili che si guidano da sole, supercomputer in grado di svolgere calcoli oggi impensabili. L'intelligenza artificiale e il computer quantistico sono le prossime grandi rivoluzioni dell'informatica al centro di The Next Big Things, l'evento organizzato dal CNR di Pisa che si è tenuto oggi a Internet Festival. Sul palco, in collegamento dall'estero, grandi protagonisti dell'innovazione come Joshua Benjo, premio Turing, il Nobel dell'informatica che ha parlato di Deep Learning, che insegna i computer a imitare il cervello umano. Tra le applicazioni più avveniristiche dell'intelligenza artificiale c'è anche l'autonomous driving, ovvero i veicoli che si muovono senza un guidatore umano. A che punto siamo con la ricerca in questo settore? La teoria e la ricerca è messa molto bene. Chiaramente adesso ci sono fortissimi problemi di standardizzazione, di gestione della sicurezza e gestione di interazione tra le macchine autonome e le macchine invece guidate dagli esseri umani. Però sono abbastanza fiduciosa che i risultati della ricerca, che anche in Italia si stanno facendo nel prossimo futuro, saranno utilizzati almeno sicuramente ai nostri figli. Pregiudizi naturalmente ci sono. In questo momento le auto autonome sono state provate poco e quindi sono ancora meno sicure rispetto alla guida normale di un essere umano. Ma si prevede che nel 2035 certamente lo saranno di più e tutte le previsioni che i colleghi fanno portano all'idea che se verranno adottate il prima possibile potranno salvare milioni di vite umane. In collegamento anche Anna Grassellino, direttrice del Fermilab di Chicago, dove si lavora al computer quantistico più potente mai realizzato, che aprirà nuove possibilità dalla medicina alla criptografia. La fisica quantistica infatti oggi è una delle frontiere più promettenti della ricerca. Adesso siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato i telefonini, i lettori cd, dvd, le tac, i cip al silicio e quindi i computer. Adesso nella seconda rivoluzione quantistica stiamo vedendo quello che può accadere. Supercomputer quantistici, machine learning, teletrasporto, siamo in un mondo diverso, stiamo per entrare in un mondo diverso. Pisa, capitale italiana dell'informatica, si pone ancora una volta al centro di queste nuove scoperte che in futuro potrebbero rivoluzionare le nostre vite. Abbiamo competenze, infrastrutture, centri di ricerca. Il CNR è sicuramente all'avanguardia nell'ambito del PNRR che è stata una grande opportunità di sviluppo e consolidamento di quello che già era presente in Italia. Si è creata una comunità coesa, siamo stati capaci di generare partnership pubblico-private importanti con tutti i principali attori privati del settore. Quindi insomma qui a Pisa c'è veramente un headquarter di competenze ma che attraversano tutta l'Italia. Io penso che l'Italia, grazie anche a questi investimenti del PNRR, potrà dire la sua come protagonista. Grazie.